I preparativi fervono per aprire la mostra che il Mast Castel Goffredo Museo della Città presenterà alla cittadinanza, ovviamente ma non solo a lei, a partire dal 12 ottobre del 2019 rimarrà aperta fino al 6 gennaio del 2020. La mostra è dedicata ad un pittore di origine mantovana che si chiama Giuseppe Bazzani in occasione del suo 250esimo anniversario della morte perché more nel 1769 e Bazzani a buon merito può essere considerato un vero e proprio esponente della pittura rococò in Europa. In realtà per noi l'avere scelto la data del 12 di ottobre è particolarmente significativa anche perché due giorni dopo esattamente il 14 ricorrerà invece il secondo anno di apertura al pubblico del nostro museo. In questo momento sono in una sala nella quale sono esposte sei tele che appartengono ad un unico ciclo e provengono dalla chiesa prepositorale di Effe in provincia di Bergamo. È da sottolineare che questa mostra raccoglie 13 opere, due provengono dal territorio quindi da Castel Goffredo ma la sfida è stata quella di portare al Mast ben sette opere che sono le uniche realizzate da Bazzani fuori dal territorio mantovano. Oltre queste opere saranno in mostra opere provenienti da collezioni private e che il pubblico avrà l'opportunità di visionare seguendo tre sezioni in ordine cronologico quindi che affrontano la giovinezza, la maturità e l'estrema maniera poi di Giuseppe Bazzani. Ovviamente per facilitare il pubblico e chi lo desidererà la conoscenza di questo di questo grande pittore, non così conosciuto ma ciò non toglie diciamo non elimina niente al suo virtusismo e alla sua poetica, il Mast organizza anche nei tre mesi in cui sarà aperta la mostra quindi a ottobre a partire dal prossimo 27 di ottobre a novembre e a dicembre dei tour alla scoperta di altri luoghi bazzaniani sul territorio dell'Alto Mantovano. L'inaugurazione ufficiale della mostra è prevista per venerdì 11 di ottobre a partire dalle 18.30 e saremo lieti quindi che le persone affrontino con noi questo momento importante e ricordo che le informazioni per quanto riguarda le visite guidate, l'apertura della mostra e quanto si diceva anche in merito ai percorsi dedicati ai luoghi bazzaniani sono tutti reperibili presso il sito internet del museo quindi www.mastcastelgoffredo.it la mostra sarà visitabile in orario di apertura del museo per cui dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.